Palmiro Ucchielli, un vecchio leone della politica saldamente alla guida del comune di Vallefoglia, non usa mezzi termini ed incertezze nell'aggettivo scelto per definire il 2019. È stato un anno entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo aperto così tanti cantieri, dice Ucchielli, che nel 2020 vincerò il primato delle inaugurazioni. Una situazione importante di approvazione dei bilanci sia della città di Vallefoglia che dell'Unione dei Comuni con i conti in ordine e con tante iniziative all'Unione sui temi della viabilità strategica dello Stato, sui temi del contratto di fiume, le piste pedronali ciclabili, sui temi del lavoro, della formazione e dell'occupazione. A Vallefoglia, sui tanti temi delle opere pubbliche, ma anche della promozione, della centralità di Vallefoglia, di Vallefoglia assume un ruolo centrale, cresce, diventa grande e oggi pensa al futuro, alla città futura di questo territorio. Un comune in crescita sia demograficamente che commercialmente. Ci sono aziende, dice, che lasciano Pesaro per aprire a Montecchio, come un magazzino tutto per la casa, e testimonia quindi la vocazione e le giuste politiche fatte di incentivi che attraggono le imprese, ma anche vocato alla cultura e al sociale, con le promesse di tagliare il nastro per il nuovo teatro a Sant'Angelo in Lizzola o la realizzazione della ciclabile che collegherà Montecchio con l'entroterra. Inaugureremo, diciamo, la pista pedonale ciclabile che collega Montecchio con Bottega, inaugureremo il nuovo campo sportivo a Morciola di Vallefoglia in sintetico, secondo campo sportivo in sintetico, inaugureremo il Morciola Sporting che è stato rimesso a nuovo, inaugureremo sempre all'anno nuovo il Teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzola che è stato rimesso a nuovo, inaugureremo, l'obiettivo è inaugurare il nuovo comune, inaugureremo il nuovo depuratore di Montecchio di Vallefoglia, un cambiamento del ruolo del fiume Foglia come una risorsa strategica una volta che è migliorata la qualità dell'acqua lungo l'asta fluviale e poi, diciamo, lavoreremo per appaltare quanto prima, diciamo, la depurazione e la metanizzazione del Monte di Colbordo di Montefabri, appalteremo quindi anche, diciamo, inaugureremo i lavori per la messa in sicurezza del Monte di Montecchio e i lavori della frana al campo sportivo di Sant'Angelo in Lizzola.